Lei è in assoluto la donna più vera che io abbia mai conosciuto. Questo weekend su CineSony, le ossessioni non danno tregua. E lei non vorrà certo un marito morto, vero? Il terrore domina la mente. Ma che è successo? La figlia è in pericolo, ma tu mi puoi aiutare. E l'amore non conosce limiti. Sarebbe quella ragazza del futuro? Venerdì, sabato e domenica alle 21. Appuntamento speciale con i grandi film del weekend. È una buona cosa. CineSony, più del cinema. Grazie.